In A1 verso Bologna In A1 peritola in direzione Firenze L'entrata di Capannori è chiusa in entrambe le direzioni per lavori di ripristino di un incidente In Fipili verso Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandici In direzione mare, code a tratti tra Scandici e la Strassigna E code alle uscite di la Strassigna e Cascina provenendo da Firenze Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze Buon viaggio! Grazie a tutti!